Sono stata l'insegnante, per molti anni ho indirizzato i miei alunni ad esprimersi in libertà, per quello che loro erano, nella speranza di costruire insieme un futuro migliore. I giovani oggi sono i più penalizzati dalle scelte politiche attuali. Ci vuole una società diversa. Solo il Movimento 5 Stelle, che non è un partito, ma sono semplici cittadini. Può rivoluzionare il pensiero partendo dal basso, facendo tutti insieme scelte quotidiane, anche piccoli, ma importanti. Ho fatto via la protesta, nella speranza di lasciare un mondo migliore, per chi c'è e per chi verrà. Non sa Germana che lei molto probabilmente è la sottelitrice del Movimento 5 Stelle di Peppe Grillo, più longeva di tutta Carrara e anche probabilmente d'Italia? Io non credo perché tutti noi anziani di una certa età che abbiamo studiato o no, abbiamo problemi da risolvere quotidiani. Vuoi per le medicine da comprare? Vuoi per il cibo più adatto alla nostra età? Insomma ci sono delle colleghe anziane che a volte vengono a trovarmi e io ho detto loro che ci mettiamo in un gruppo per sostenere i giovani ad aiutarci perché sono loro che ci devono aiutare e noi nel frattempo li sosteneremo quando loro devono avere dei lotti. C'è il genovese Peppe Grillo al quale da tanti anni, anche ai tempi di mia mamma, piaceva ascoltarlo in televisione perché diceva mia mamma che era l'unico uomo che non parlava come i partiti. Quindi tutte le persone anziane se mi ascoltano devono venirmi a trovare il programma del 5 Stelle.